Belen Rodriguez è partita per le vacanze estive con la figlia Luna Marie Per la piccola fuga ha scelto uno dei suoi rifugi preferiti, un'isola immersa nella natura La showgirl argentina Belen Rodriguez è partita per le vacanze estive con la figlia Luna Marie Per la piccola fuga ha scelto uno dei suoi rifugi preferiti, un'isola dalla natura selvaggia e incontaminata a pochi KM da Milano Il posto sembra essere molto speciale per la conduttrice che da settembre debutterà su 9 in real time Belen Rodriguez, la fuga estiva con la piccola Luna Marie Belen Rodriguez deve ricaricarsi prima di iniziare la nuova stagione televisiva Dopo un anno sabbatico in cui è stata lontana dalla tv, e dopo l'addio a Mediaset la conduttrice ha firmato un contratto con Warner Bros Discovery, a partire da settembre sarà al timone di due programmi, uno su 9 e l'altro su real time Per ricaricarsi nel migliore dei modi la conduttrice ha scelto di trascorrere un po' di tempo nel suo posto del cuore, un'isola immersa nella natura a pochi passi da Milano con cui era stata anche insieme al marito Stefano De Martino Questa volta la showgirl argentina è partita in compagnia della figlia più piccola Luna Marie, nata dalla relazione con Antonino Spinalvese Madre e figlia sono partite alla volta dell'isola di Albarella, in provincia di Rovigo, affacciato sul delta del Po e bagnata dal mar Adriatico Stiamo parlando di una vera e propria oasi di pace che la futura conduttrice di amore alla prova la crisi del settimo anno e only fan comico show ama particolarmente La showgirl argentina ha frequentato il posto in compagnia degli ex fidanzati Antonino Spinalvese, padre della piccola Luna Marie, ed Elio Lorenzoni La location permette di stare a contatto con la natura e avere privacy L'isola fa parte del comune di Rosolina, in provincia di Rovigo, ed è privata da secoli La conduttrice sta ricaricando le energie con lunghe passeggiate e giri in bicicletta prima della nuova stagione televisiva La showgirl argentina a breve entrerà nella famiglia Warner Bros Discovery, seguendo l'esempio di Fabio Fazio e Amadeus, è un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros Discovery, la mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l'opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera Grazie a tutti i nostri amici